La variazione al bilancio in Consiglio regionale proposta dal Presidente Toma è passata grazie al numero legale garantito dai 5 Stelle. La cosa ha generato molte polemiche. Cosa si sente di rispondere? Sorprendono le polemiche su un atto amministrativo di tale portata perché il Movimento 5 Stelle innanzitutto ha votato no alla variazione di bilancio per il metodo perché è inaccettabile ricevere delle variazioni di bilancio così all'ultimo minuto. Ma abbiamo inteso rimanere in aula e garantire il numero legale per la finalità della variazione di bilancio. Infatti si stanziavano fondi per garantire l'antincendio boschivo e quindi la campagna antincendio. E in giorni come questi in cui assistiamo agli incendi che stanno flagellando la nostra terra appare inverosimile assistere a queste polemiche. Il Movimento 5 Stelle ha garantito il numero legale in aula per forte senso di responsabilità innanzitutto verso i cittadini molisani e verso questa regione. Non è il caso di fare strumentalizzazioni e inutili polemiche su un provvedimento come questo.